No, non è che posso entrare nel... io ragiono solo di San Siro, per il resto è legittimo che le squadre verifichino le loro altre opportunità, ecco per me sarebbe ovviamente non certo una cosa positiva se non rimanessero a San Siro, però posso anche capire il fatto che le squadre siano stanche, i tempi sono lunghi, sono stati lunghi, ma se faccio un esame di tutto quello che è stato non c'è mai stato una volontà di rallentamento, ecco forse due mesi intorno al momento della campagna elettorale, ma ci stava, da lì in poi nessuno ha mai voluto rallentare. Le procedure in Italia sono complesse, però sono queste. Ma l'insistenza dei Verdi sul dibattito pubblico, che in qualche modo è ingesso un po' tutto? No, però il dibattito pubblico, guardate, bisogna farlo. Quello che io sostengo è che il dibattito pubblico non allunga i tempi rispetto a comunque i ricorsi che sono stati fatti e al referendum. Il dibattito pubblico automaticamente annullerebbe il referendum. Quindi secondo me non è quello. Il problema è che le squadre avranno ancora la pazienza per aspettare alcuni mesi o meno e d'altro canto andassero, adesso io non dico sesto, da qualunque altra parte. È chiaro che va fatto, i terreni li conosciamo, sono tutti terreni che vanno bonificati, come ovvio che sia, e poi va fatto un piano di mobilità. Secondo me in termini i tempi non guadagnano molto, ma non sono così rispettoso nei loro confronti di dire che stanno sbagliando. Quindi è assolutamente legittimo che guardino anche ad altro.